Evento San Luri Legge con ospiti importanti fa sì che la manifestazione di San Luri sia avendo un rilievo regionale di assoluta importanza. Sì, ed è fonte di orgoglio per noi essere arrivata la quinta edizione, sollevando sempre l'asticella per far sì che San Luri in questi giorni diventi sia centro di attenzione culturale, di attualità, di discussione politica e di centro di interesse di tutto il territorio per questo festival letterario che ormai ha dato vita ad un interesse davvero forte, sia perché abbiamo portato sempre scrittori emergenti, sia perché abbiamo portato scrittori di livello regionale già affermati, ma anche scrittori di livello nazionale e internazionale come appunto in questa edizione.